Ai primi di luglio sulla statale 372 Telesina prenderanno avvio i lavori di manutenzione del viadotto Pantano, un investimento di 2 milioni di euro. Le opere consistono più che altro nella manutenzione e risanamento degli impalcati metallici, la realizzazione dell'impermeabilizzazione della soletta, la realizzazione della reggimentazione idraulica e della pavimentazione. Questi interventi andranno a migliorare il livello di servizio e di percorribilità dell'infrastruttura. Questo testimonia, quest'ulteriore intervento testimona la costante attenzione di ANAS non solo nella realizzazione delle nuove opere ma anche nella manutenzione del patrimonio stradale esistente.